A tutti voi in ascolto un affettuoso buonasera e bentornati al nostro consueto appuntamento di luce e di celluloide. Sono già trascorsi quattro anni da quando Vittorio Taviani ci ha lasciato. Ciò non di meno continua a vivere nel fratello Paolo. Continua ad essergli vicino nello sguardo, nelle mani, nella sensibilità, in quell'inspiegabile caratteristico pizzicore che è tipico dei grandi narratori, dei grandi favolisti toscani e che è ben presente fin dall'inizio, fin dalle primissime opere del celebrato, talentuoso duo di cineasti sanminiatese. Lo stesso talento, la stessa presenza di quattro favolose mani nell'ora ultima fatica, Leonora a Dio, in cartellone al Cinema Don Bosco della Spezia. Sono molte le ragioni per cui vale la pena venire a vederlo. C'è una generazione che ancora non ha visto le precedenti opere dei Taviani. Può essere questa l'occasione di mettere le lancette dell'orologio indietro e riscoprirle passo dopo passo, pellicola dopo pellicola. Fosse anche per il fatto che prima dei fratelli Taviani pochissimi sono stati gli esperimenti riusciti, sentiti, visivamente intriganti, di tradurre in immagini audiovisive l'universo letterario di Luigi Pirandello. I Taviani ce ne hanno dato una feconda prova. Dapprima nel 1984, con Caos, che portava sul grande schermo sei delle novelle per un anno, e dalla stessa fonte ricavarono altre due novelle nel 1998 per il sottovalutato, ma a nostro avviso assolutamente da riscoprire, Turidi. A distanza di molti anni questo Leonora Dio forma un ideale trittico e sicuramente un succoso, interessante, dinamico materiale di studio, in particolar modo per gli studenti di liceo che da poco si sono avvicinati all'universo letterario di Luigi Pirandello. Ed è proprio Luigi Pirandello, nel suo ultimo viaggio, in un'urna cineraria che viene seguito dalla cinepresa dei fratelli Taviani. Il prefetto accompagna amorevolmente l'urna al suo ultimo viaggio per poter essere abbandonata in terra siciliana, custodita dal suo paesaggio brullo, dalle sue rocce, dalla sua gente che tanto tenacemente, tanto realisticamente Pirandello ha rievocato nelle sue pagine e nella sua scrittura. A un certo punto questo viaggio si discosta dalla nostra attenzione e prende forma una novella mai portata sullo schermo prima d'ora, ovvero Il Chiodo, scritta da Pirandello nel 1936, poco prima dell'improvvisa dipartita per Polmonite. Con questa digressione narrativa ci troviamo al secondo, grande, più importante punto di interesse e motivo di riscoperta di Leonora Addio in Sala. Quella straordinaria capacità che si può ammirare in tantissime pellicole dei fratelli Taviani, dal Prato a San Michele a Vivongallo, allo stesso sunnominato caos di mettere in immagini la semplicità della fiaba e del mito. Nella riavocazione della novella Il Chiodo tutto sembra consumarsi in quei pochi attimi, in quelle poche immagini. La giovinezza, il mito per l'appunto, la fiaba, l'avventatezza, la semplicità nel donare la vita non dissimile dalla semplicità, dalla velocità, spesso dall'incomprensibilità di strapparla via in un unico, irreversibile, tragico gesto. Permettetemi di entrare nel dettaglio e di descrivere questi momenti che attestano anche il sensibilissimo gusto pittorico dello sguardo dei fratelli Taviani. In un brullo sterrato campetto di periferia, probabilmente ai margini della Little Italy New Yorkese all'inizio del Novecento, due bambine, entrambi dagli occhi di un celeste quasi intollerabile, si accapigliano, dapprima con fare giocoso, poi sempre più bestiali, fra morsi, unghiate e linguacce di fuori, quasi come certe maschere apotropaiche. Bastian Edu, un garzone di trattoria, osserva l'assurdo spettacolo, crogionandosi al sole del primo pomeriggio, su un muretto non distante dall'avvenimento, si alza, girovaga senza una direzione precisa, respira pesantemente, lo vediamo accoccolarsi, forse nell'intento di nascondere le proprie lacrime in una posizione che richiama immediatamente a un celebre dipinto, il giovane nudo seduto in riva al mare del 1836 di Hippolyte Flandrenne. Intanto, passando, un carretto di rottami lascia cadere un chiodo. La rumorosa rissa fra bambine continua, Bastian Edu è esasperato, il suo sguardo obliquo e torbido ad un tempo come i moretti di alcune tele del Caravaggio e così i muscoli del collo e del suo viso, tesi e decisi come quelli del giovane nella deposizione di Raffaello nella Palabaglioni, paiono entrambi sussurrarci, vivere non è facile, uccidere forse lo è un po' di più, il chiodo viene raccolto da terra, un passo avanti basta un piccolo colpo. Detto così sembrerebbe un episodio misero, semplice, con la stessa banalità, la stessa asciuttezza di un fatto di cronaca. Eppure in questo episodio c'è tutto il talento pittorico, narrativo, permettetemi dire, mitopoietico del talentuoso duo di cineasti, San Miniatese. Vi aspettiamo in sala per poter riscoprire insieme questo talento e questa sensibilità per la quale sembra esserci sempre meno posto nel cinema italiano contemporaneo. Leonora Dio sarà fruibile mercoledì alle 17.30 e alle 21, sabato e domenica alle 15.30, 17, 18.45 e 21. Segnaliamo infine due ghiotti appuntamenti per gli appassionati, due opere candidate agli Oscar 2022 come miglior film. Il visionario Dune di Denis Villeneuve, ispirato al ciclo fantaepico di Frank Herbert, sarà fruibile lunedì 28 febbraio alle 17.30 e alle 21.00. Viceversa, il commovente King Richard, ispirato alla storia vera di Richard Williams, ben reso dal talentuoso Will Smith e delle figlie Venus e Serena, Fulgi di Astri del Tennis, vi aspetterà martedì 1 marzo sempre alle 17.30 e alle 21.00. Vediamo insieme questo breve strato dell'intervista che Paolo Taviani ha rilasciato alla rubrica Effetto Notte, seguirà il breve provino di Dune e ci ritroveremo insieme dopo poco in studio nel segno del Cinema Italia di Sarzana. Il film è dedicato a suo fratello comunque, no? Lei ancora dice noi parlando del suo cinema, no? Sì, dico noi perché alla mia età molto avanzata sono fatto di me e di lui anche se in questo film lui non c'è, però è chiaro che era dietro, soffiava dietro a me. Tutti preoccupati là? Agrigente? Tutti, aspettano le cene di Pierandello. Piano, 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 piano. Slow down. Oh, slow, slow, yes, ok, ok. Slow down, ok. Devi affrontare le tue paure. Da regista Denis Villeneuve. Sogno frequentemente di una ragazza su Arrakis. L'imperatore ci chiede di portare la pace su Arrakis. Casa Traides accetta! Uccideli tutti. Un grand'uomo non cerca di essere un leader. È chiamato a esserlo. Dune. Dal 16 settembre al cinema. Eccoci di nuovo insieme, come promesso, nel segno della storica sala di proiezione sarzanese. Il bisogno di volgere lo sguardo ad altri pianeti, altre dimensioni, più alti livelli di vita. È tutto questo ciò che siamo. Non c'è niente di più. Sono tante le vie per tradurre, suggerire, dal punto di vista cinematografico, una risposta a questi quesiti vecchi quanto il genere umano. E il regista anconetano Beniamino Catena ha una sua idea di quale via percorrere per il suo film Io sono vera in programmazione al Cinema Italia di Sarzana. Un'opera non facile da classificare, immaginosa, ma al tempo stesso molto commovente, struggente in un modo non comune. Il regista si serve delle forme, potremmo dire, di una fiaba costantemente scissa fra accenni di spiritualità, di religiosità mediterranea e paradossi fantascientifici per raccontare dei temi molto vicino a noi, come il timore nei confronti dello scorrere del tempo, il timore nel perdere una persona cara, eppure al tempo stesso tenacemente inseguire, ricercare quello che nella celebre poesia I limoni di Montale viene definito l'anello che non tiene, il punto morto del mondo. Questo tema così sottile, così particolare, che ricorre con insolita interessante frequenza nella filmografia dell'ultimo triennio, basta pensare a Loveless, Burning, come anche in piccola parte, Tre Piani, ritorna all'interno di Io sono vera, in modo sentito, originale, visivamente molto, molto affascinante, interpellando questo nostro stesso desiderio di trovare un pertugio, una fessura, un passaggio dal quale potersene andare da questo mondo destinato alla rovina, destinato alla decadenza. La ragazzina di nove anni del titolo, vera per l'appunto, che svanisce in un lampo sulla sommità di una rupe a strapiombo sul Mar Ligure, sotto lo sguardo incredulo del suo maestro di scuola, a suo fianco per una gita, forse ha scovato proprio questo anello che non tiene, questo punto morto del mondo. Passa il tempo, i genitori si ritrovano alla porta una ragazza, intirizzita, emaciata, dagli occhi affascinanti e dolci. Una ragazza di nome vera, esattamente come la bambina che hanno da poco perso. Ma chi è questa ragazza? È un'impostora? È una malata di mente fuggita da una clinica? O forse, forse custodisce dentro di sé un segreto anche più prezioso, anche più stupefacente? Questo lo scoprirete nel corso della visione. Il nostro consiglio è che le interpretazioni verranno dopo, ciascuno spettatore darà la sua interpretazione. La cosa migliore è abbandonarsi all'atmosfera, alle accurate immagini di Maura Morales Bergman, che letteralmente tesse in ogni inquadratura un amoroso ricamo nei riguardi della giovane attrice alessandrina Marta Gastini, sicuramente fra le attrici più aggraziate di una bellezza fine, enigmatica da altri tempi, ed espressive della sua generazione, capace di donare a questa misteriosa, enigmatica visitatrice una consistenza, una luce, una febbrile carnalità, permetteteci di usare questa espressione, autenticamente extraterrestri. Un film, insistiamo, insolito per il cinema italiano, da proteggere, da scoprire, da godere, da gustare più e più volte, per poter scorgere, per poter snidare i molteplici simboli, le molteplici chiavi di interpretazione. Il film Io sono vera, per l'appunto, sarà visibile questo sabato, 26 alle ore 21, una proiezione speciale, la quale, ricordiamo, sarà fatta in presenza del regista e della giovanissima Caterina Bussa D'Amico Montalto, ovvero l'interprete di Vera, a nove anni, domenica 27 alle ore 17 e 19, lunedì 28 alle ore 21. Da ultimo, ma di certo non per importanza, Gio Denti aspetta tutti voi, giovedì 3 marzo alle ore 21, con il capolavoro Eva contro Eva di Josef Manchievich, primo incontro della rassegna cinematografica da lui ideata e curata, Un sogno in bianco e nero. Due fiabe, in qualche modo, sia in cartellone al Don Bosco, sia in cartellone al Cinema Italia di Sarzana, ugualmente visionarie, ugualmente gustose, entrambe battenti bandiera italiana. A voi, come sempre, la scelta, non resta che augurarvi fin da ora buon proseguimento di serata, buona visione e che il grande cinema vi accompagni sempre, nei vostri occhi, nei vostri sensi e nei vostri sogni. Vera è nata dall'esigenza di raccontare un paradosso temporale, come se ci fosse una continuità tra vita e morte, in cui non si è certezza quale venga prima o dopo, come fossero dimensioni parallele, quindi anche passato il presente e il futuro sono in qualche modo contemporanei. In fondo, Vera è un film di fantascienza raccontato con toni realistici, come un documentario che segue le tracce di una ragazzina scomparsa, che condivide l'identità con un uomo sconosciuto che vive dall'altra parte del mondo, nel miglior posto per osservare le stelle, che è il desiderio profondo di Vera. Per questo ho scelto location come il promontore picco sul mare di Varigotti, sulla riviera Ligure, dove abito, e il Cile, il deserto di Atacama, dove sorge l'alma, il più grande osservatore astronomico del pianeta. Per il personaggio di Vera anche il film è ibrido e inclassificabile come genere. L'abbiamo realizzato come il minimo indispensabile come una piccola troupe di missionari, soluzione che ha reso l'esperienza cinematografica nuova rispetto agli standard soliti e che mi ha permesso di girarlo in assoluta libertà produttiva, tecnica e narrativa, dove la musica e la visione contano più delle parole. Infatti mi sono affidato di Marlene Coons, una band con cui collaboro da anni, che non avevano mai fatto una promozione, quindi l'hanno gestita come una ballata unica in cui l'acustico e l'elettronico si fondono creando quell'atmosfera di realismo magico che per me ha fatto il film. Grazie a tutti! Grazie a tutti!